Ai! Ai! T'ho fatto male! Non ce l'ho, tu che c'è? Ehi, come vanno le cose? Male! Male! Ma quanto ti danno? Mille! Un bacio di testi! Colpo da del braccio sinistro, mi hai impedito il testo! Dunque sono mille! Allora 500 lire per uno! Siamo soci, riguardati che siamo soci, Felice! Ma quando è mille lire? Quando è mille lire? Cosa hai capito? Io dico mille preoccupazioni al mese!